Questa iniziativa nasce nell'ambito di Extra, il nostro piano di welfare di gruppo. L'elemento distintivo del nostro piano è un forte investimento verso iniziative e servizi volte a sostegno dell'istruzione per i figli dei nostri dipendenti. Equità, meritocrazia sono questi i principali criteri utilizzati per l'attribuzione della borsa di studio per l'anno accademico 2015-2016. Hanno partecipato tutti gli studenti che avessero conseguito almeno 45 crediti e una media maggiore del 27. Il consiglio che noi generalmente diamo a chi si affaccia per la prima volta al mondo del lavoro o comunque è nella fase finale del percorso di studi è quello di intercettare quelle piattaforme che diano la possibilità a loro di esprimersi e di meglio adattarsi e con quindi di poter visualizzare al meglio quelle che sono le loro esperienze accademiche e professionali. E poi un consiglio spassionato è quello veramente di tentare il tutto per tutto e non stare assolutamente fermi ma cercare le opportunità che noi lo vediamo tutti i giorni ci sono. L'azienda sta valorizzando l'istruzione e la cultura anche attraverso il welfare, sei soddisfatto di questa iniziativa? È una bellissima iniziativa perché serve per gratificare i ragazzi, per dare onore al loro merito, al loro impegno e quindi nell'ottica comunque di stimolarli a fare sempre meglio. È un valorizzare gli studi che si sono fatti insomma, quindi sì. Con i genitori è stata una bella soddisfazione. Senz'altro perché è una cosa che li tiene e avere questo risultato qua è positivo. Tantissimo, l'iniziativa è stata fantastica, è stata veramente una bellissima giornata. Sì, molto soddisfatto, sì. Ti piacerebbe lavorare in una grande azienda? Come no, sarebbe un enorme piacere. Sì, mi piacerebbe molto e sicuramente potrebbe essere un'opportunità importante per me. Ma prima andrai in vacanza, vero? Sì, sì, dai. Si spera un pochino, una facoltà pesante quindi un po' di vacanza magari dopo sei anni ci sta. E sarò anche divertirmi dopo questo duro sacrificio. Che cosa farai con la tua borsa di studio? La spenderò probabilmente finanziando i miei studi all'Università di Lancaster. Senz'altro ridarò un po' di soldi all'ora e poi per la mia vacanza di laurea. Probabilmente approfondirò nel mio campo cercando di specializzarmi al meglio, quindi vari corsi di aggiornamento sicuramente. In che cosa ti laurei? Biotecnologie Quando? Il 21 luglio, quindi a breve tra... sì, venerdì. Allora in bocca al lupo Creppi Congratulazioni! Dì la verità, te lo aspettavi? No, non me lo aspettavo, però sono molto contenta e orgogliosa. Allora in bocca al lupo Allora in bocca al lupo